Qual è il contributo che il CNR può dare al Trentino e anche alla Fondazione Bruno Kessler? Ma intanto diciamo sì, è un caso, non so se sia unico, non ci sono molti, però è fondamentale perché c'è una raccolta di tecnologia impressionante che è quello che serve per poter fare ricerca di frontiera e il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche è quello di avere progetti di ricerca trasversali, importanti che coprono, superano i confini disciplinari. Molte di queste cose le fa in sinergia con i nostri ricercatori per cui c'è la convenzione. Volgendo lo sguardo verso il futuro, in quali ambiti e in quale aree strategiche può essere davvero funzionale la convenzione, la collaborazione col CNR? Le aree su cui voi già avete, diciamo, come dire, le convenzioni, ci sono due, tre, mi pare, istituti tutti questi fanno nei fatti, come dire, fisica, sensoristica, combinazione fisica, ripeto, sia da materia o dei materiali ma anche combinazioni col mondo, come dire, biologico per sviluppare cose intersecate. Io credo che bisogna continuare ovviamente su questa strada per fare sempre di più strategie comuni e il CNR è assolutamente pronto a fare la sua parte. Quello che vorrà succedere è che in qualche modo Trento, FBK e TAL, diciamo, diventerà sempre un nodo un nodo importante, diciamo, nella rete italiana e magari anche protagonista in un futuro che, ora come ora, è, fra virgolette, quantistico, diciamo, nel senso che è proprio uno spettro amplissimo, diciamo, si va appunto dai nanofili alle molecole biologiche che hanno certi comportamenti, sembra strano, diciamo, quantistici ma, come dire, anche, che so, agli atomi freddi, all'ottica in generale, ai diamanti che diventano, nanodiamanti che diventano oggettini per fare piccoli qubit per calcolatore quindi ci sono tutte le possibilità. Il compito del CNR, quello che il CNR fa molto volentieri, è di mettersi a un servizio strategico e quindi è ben lieto di questa interazione con una cosa come l'FBK che ha dimostrato di avere una strategia, diciamo, dei piani scientifici che hanno funzionato e che continuano a funzionare.